Cecilia Rinalduzzi Eccoti qua, ancora una volta, perfetta come sempre, elegante, curata, di bell'aspetto, è questo che conta, no? La prima impressione. Prego, si presenti. Mi chiamo Cecilia Rinalduzzi, ho 27 anni e sono di Roma. Ma se sei non vedante lo puoi scrivere sul curriculum e avranno un occhio di riguardo per te. Vabbè, avete capito. Se sei disabile ti aiuteranno in tutti i modi per far sì che tu abbia pari diritti con gli altri contendenti. Sordo, muto. Ma che ne è di quelli come me? Quelli come me non possono mica scrivere palpetto. Parli in inglese perfettamente. Io parlo molto bene inglese. E poi quello sguardo. Quello che ti ha patto. Quel misto tra pietà e che cazzo stai dicendo che tutte le volte ti uccide? Mi ha dato l'opportunità di vincere un premio come migliore interpretazione. Sì, facevo un'anatona affettata da difficoltà muotorie. Più o meno come Daniel Delewis in il mio piede sinistro a presente. 3, 2, 1, game over. So che sembra assurdo, ma quando recito non ho il petto. Davvero. Sì, facevo un'anatona affettata da difficoltà.